Beh, in effetti andare a un concerto oggi spesso significa vedere un sacco di gente che anziché guardare quello che succede sul palco, sta a guardare il cellulare, a fare video e a fare fotografie. E infatti ci sono diversi artisti che chiedono espressamente che la gente non usi il cellulare durante il concerto. Poi ci sono i Gorillaz. Io non mi intendo molto di musica, però i Gorillaz li conosco perché non sono un vero e proprio gruppo musicale, ma sono un gruppo virtuale, creato alla fine degli anni 90 da un fumettista e da un musicista, polistrumentista e cantante. Poi vi metto il link nelle note del podcast, così se siete interessati andate a vederle. Perché sto parlando dei Gorillaz? Non particolarmente per la loro musica, ma per quello che hanno fatto qualche settimana fa, ma torno a Natale, con questi due loro concerti virtuali che hanno fatto a New York, a Times Square e poi a Londra, a Piccadilly Circus. Cosa hanno di tanto particolare questi concerti che ne parlo io, che non mi interessa di musica e non sono nemmeno particolarmente afferrata? Perché questi due concerti sono stati interamente virtuali. Cioè la gente si è riversata nelle due piazze, appunto Times Square a New York e Piccadilly Circus a Londra e hanno seguito il concerto tramite il loro cellulare. Il gruppo Gorillaz infatti è molto tecnologico e da sempre ha fatto delle grandi commissioni, delle grandi trovate, non solo pubblicitarie, perché poi c'è anche del contenuto, usando la tecnologia. E la gente poteva seguire il concerto guardando attraverso il loro schermo del cellulare. Cosa hanno fatto? Hanno fatto un collegamento tra le mappe Google, che sono disponibili a tutti, da qualsiasi cellulare che uso per navigare la città, ma così come fanno tante altre persone, con una nuova tecnologia di cui non vi sto a parlare perché non ne capisco niente. Però cosa succedeva? Succedeva che la gente ha potuto seguire il concerto in realtà aumentata, cioè voi immaginate, avete il vostro cellulare in mano, inquadrate una strada e lì nella strada vedete che compaiono questi personaggi giganteschi. Io ho visto il video perché non ero là e sembra veramente di stare dentro un cartone animato giapponese. È una cosa fantastica. Trovarsi lì di persona doveva essere una cosa incredibile. Io ho un po' provato questa sensazione della realtà virtuale aumentata quando è uscito il gioco Pokémon GO, mi pare che fosse il 2016. All'epoca abitavo ancora Melbourne e ricordo diversi viaggi fatti per tornare a casa da lavoro dove tutta la metropolitana era piena di gente che giocava a Pokémon GO.